Ciao a tutti amici Soscaner e buon Natale, sì con largo anticipo, sono qui a fare un video speciale, video natalizio, come potete vedere sono appunto in tipico abbigliamento natalizio, video speciale che giunge alla fine dell'anno, anno che è stato veramente per me molto bello, ci sono stati molti cambiamenti, molte novità nella mia vita da softgunner e non solo, sono qui con questo video per dirvi un'anteprima di quello che sarà il 2012, allora togliamo gli occhi dal sole perché fa brutto il caso, fa veramente Terminator, allora ovviamente il 2012 sarà un anno ancora all'insegna del grande softair, quindi farò tanti altri video, continuerò con le riprese delle giocate, continuerò con le recensioni, continuerò con le rubriche, vedremo di fare qualche nuovo tutorial, vediamo anche mio fratello Hank che vi saluta se riuscirà a fare qualche cosa nuova, quindi video garantiti per tutto il 2012, è in fase di progettazione come avete potuto vedere da un video una nuova inquadratura, questo perché ho in mente un grande progetto, sto trasformando completamente uno dei miei fucili per fare una nuova cosa e ho bisogno di una telecamera molto figa per fare questa nuova cosa, spero di passare all'HD, si accettano donazioni, pertanto amici softgunner se volete farmi una ricarica, nella descrizione troverete il numero della mia post e pay, si accettano appunto donazioni per poter acquistare una nuova videocamera HD, ovviamente molti di voi sapranno che è comunque l'anno in cui io mi sposerò, quindi sarò molto impegnato, ci saranno degli stravolgimenti, dei cambiamenti molto radicali nella mia vita, quindi il tempo a disposizione sarà meno, già ne ho poco purtroppo, adesso nel momento in cui sto girando questo video sono ancora a casa in mutua con la mia gamba sciancrata e un po' malaticcio, infatti spero che la voce non sia più merdosa del solito per colpa del raffreddore, comunque cambierà la locazione di video, questa fantastica stanza a metà dell'anno verrà abbandonata perché andrò nella mia nuova casa con mia moglie, quindi comunque le sorprese non mancheranno, un 2012 veramente molto ricco di video, non voglio assolutamente mollare perché mi state dando veramente tante soddisfazioni, sono contento che il canale sia cresciuto molto, e che molti di voi siano così attivi, cioè io vi ringrazio tantissimo, mi basta scrivere, un bel pollice su per, se ti piace l'idea e subito rispondete, non pensavo di riuscire ad avere un canale così attivo, nonostante gli iscritti, guarda, aveva ragione, non mi ricordo chi che mi ha detto che non conta il numero degli iscritti, ma chi mi segue, aveva assolutamente ragione, non mi interessa più averne 300.000, sono contento di quei pochi che siete e che mi seguite veramente, caoscio qua, due fogli di roba da dire, vi sarete già annoiati, l'80% di chi ha cliccato questo video avrà già cambiato, veniamo ora al succo, al cuore di questo video, il vero motivo per cui l'ho voluto realizzare, ovviamente per i ringraziamenti, ringraziamenti che vanno a una vasta categoria di persone, voglio partire innanzitutto ringraziando LB, ragazzo che mi ha praticamente aiutato tantissimo nella creazione del forum, Amici del Criminal, c'è il link nella pagina principale, anche qua nella descrizione del video, forum che ho creato e che è nato dedicato a tutti voi che continuavate a farmi domande sul suo terro, allora è inutile star qua ogni volta su Facebook a scrivere ma è meglio la camp, ma è meglio le M4, ma è meglio questo, insieme facciamo un forum tutto ordinato, catalogato, quindi è nato questo forum che purtroppo in pochissimi hanno conosciuto, apprezzato, non lo so neanche cosa dire, però è venuto molto bene e tutto questo lo devo a LB perché se non ci fosse stato lui io non sarei stato assolutamente in grado di gestire le impostazioni visto che lui è un informatico, ovviamente ringrazio tutti i ragazzi del forum, quindi partiamo con Killer e Dasher, che sono i moderatori che mi hanno aiutato molto a completare il forum, hanno scritto veramente tanto, ringrazio... scusate l'emozione, ringrazio Seba Ezio, ringrazio Restore Hope 93, ringrazio I'm Soft Gunner 98, passiamo a Lions of Gunner, grazie anche a te, a Sotte 25, The Invisible Killer, Tony Cavani, Valsec 35 e tutti gli altri 100 e passa iscritti, questi sono quelli più attivi che non potevano menzionare, comunque vi ringrazio tutti voi nel forum, ovviamente ringrazio tantissimo Nito, Nito che è un gran meccanico, che ha dato veramente un contributo fondamentale all'arricchire il forum di contenuti veramente importanti, ovviamente ringrazio anche NitoSoftair.it, appunto negozio di Nito, che mi sta aiutando con un progetto che anche qua vedrete a gennaio, per l'appunto con le modifiche di cui vi parlavo prima, ho un fucile, ovviamente ringrazio tutti i 2700 iscritti di YouTube, grazie a tutti ragazzi, siete fantastici, mi date veramente tantissime soddisfazioni, voglio ringraziare in particolar modo i canali partner, che mi hanno aiutato a pubblicizzare, che io ho pubblicizzato loro e sono stati molto meritevoli, quindi di nuovo NitoSoft, Softair Mezzo Corona, complimenti ragazzi, avete veramente fatto un ottimo lavoro quest'anno, siete cresciuti molto, e spero di essere stato anch'io di contributo alla vostra crescita, saluto il Bullshit Team, quindi Spazio Armi Softair, tutti i pazzi di quel gruppo, saluto Alps Airsoft, saluto Seal Softair, saluto Water Alive, anche loro molto simpatici, spero che grazie al mio aiuto appunto siete cresciuti, fate un po' più video ragazzi, per il continente siete un po' fermi. Ovviamente saluto e ringrazio tutta la mia fantastica squadra, quindi saluto tutto il 185esimo, una squadra fantastica, non avrei potuto chiedere di meglio, di trovare una squadra con gente migliore, quindi in particolar modo saluto Bumblebee, che quest'anno come avete visto, si è anche prestato a fare una simpatica miniserie, che probabilmente nel 2012 ci sarà la stagione 2, quindi come i migliori serial tv, ci sono le stagioni, vediamo di riuscire a trovare il tempo di fare la season 2, e niente, saluto veramente tutti i miei compagni, di nuovo tutti gli iscritti al canale, di nuovo tutti i ragazzi del forum, e anche tutti gli amici su Facebook, quindi grazie a tutti dell'affetto, scusate se rispondo male, ma io sono un po' così aggiornato, se la giornata storta mi girano in 5 minuti, rispondo in malo modo, vi chiedo scusa a tutti, se qualcuno l'ho offeso, scusa, grazie a tutti per l'affetto, e continuate a seguirmi, ciao, buon Natale, e buon anno nuovo, a gennaio tantissime novità, un 2012 stellare, col botto proprio, a combattere, Merry Christmas, e buon anno, ciao, 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 ciao,